Musica 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 ci serve che vada il più lontano possibile è tutto pronto mangio tardi che mai con un altro video a seconda parte di le ghiacci di solis quindi adesso questi due MacGyver hanno insamblato questo drone che ci aiuterà insomma a ingannare al satellite che in pratica è diretto verso questa nave e in pratica noi adesso dovremmo andare a sala di controllo, tornare di nuovo indietro e... cavolo si dove cavolo sei? ah dall'altra parte si, vabbè la stessa cosa ho capito ho capito io che voglio fare il giro più lungo palle vabbè avrò il tempo per esplorare dopo si chiede perché ho dispiegato la reggia solis eh la reggia sole si, cosa l'ha spaventata? non è un po' presto per invocare il furore degli dèi? sistema di puntamento satellitare inserire autorizzazione il momento è arrivato Brian lasciate ogni speranza poiché entrate eh? autorizzazione approvata attivazione laser pezzo di merda adesso quindi dobbiamo andare ho calcolato quanto tempo avete alla sala di controllo cinque minuti fantastico bene oh oh un'aria che culo cazzo ho capito corrigire non avventare ah come posso fermarmi? cazzo mi fanno passare? oh di merda no oh curati curati calcio carica carica scoppia scoppia cazzo bene bene proprio nel momento più o meno indicato mi sono lo telefono cellulare danazione questo è il problema della life di nuovo a voi no cazzo ok ce la farò non abbiamo tempo andiamo non vorrei morire qui a presto non c'è più tempo andiamo 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 tutta questa sala adesso e dobbiamo scendere ok ho capito ma io non ho munizione come cavolo faccio adesso? dannazione non la smetti mai no di nuovo tu cazzo via 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 che rompipale cavolo via no cazzo no 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 piccolioni scendi scendi no chi cazzo è? no la trappola no non ho munizioni no nula parker scusami eccolo 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 mi saque quasi portone no della altra parte sono un colione cavolo cavolo ti dispiasso ma non ho tempo di giocare cazzo via 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 corri corri dai dai 15 secondi di nuovo questa troia ecco i comandi avanti fai il tuo lavoro ce l'abbiamo fatta uffel bene 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 mi è partito del drone del UAV UAV cavolo cavolo pezzo di marda dopo un anno attivata di nuovo quel cavolo di satellite che l'abbiamo fatta di nuovo il UAV cavolo 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 ho creato una lo sai lo sai ho creato un'anomala uno tsunami no 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 si 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 l'ha ribaltato l'ha ribaltato e bene ragazzi è finito quanto pare questo episodio numero 7 la regia solis aveva detto prima regia scusate comunque per la pronuncia del cavolo e niente ragazzi per il momento ci fermiamo qui se vi è piaciuto il video comunque mi raccomando potete lasciare un mi piace, potete commentare potete iscrivervi così magari aiutate a crescere questo canale potete condividere questo video magari su facebook o qualche altra social network così lo fate vedere a qualche amico vostro sotto la descrizione del video c'è anche la mia pagina facebook e pagina twitter così comunque siete più informati su tutte le notizie e aggiornamenti su questo canale beh ragazzi questo è tutto ci vediamo magari al prossimo video see you gamers